Allora, Palermo è invasa dal Covid, ci sono tante macchine mentre vi parlo che sono incolonnate alla Fiera del Mediterraneo e mi collego subito con il commissario per l'emergenza Covid di Palermo e provincia, Renato Costa. Buon pomeriggio Renato. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere con noi. Allora, intanto le temperature proibitive non fermano il lavoro dei tanti medici che in questo momento stanno facendo tanti tamponi alla Fiera del Mediterraneo? No, non li fermano e tra le altre cose i colleghi stanno soffrendo moltissimo, perché con 40 gradi stare in una tuta a biocontenimento è complicato. Stiamo cercando di alternarli il più possibile perché non è umano resistere oltre le due ore all'interno di questa tuta. Sì. Senti, quanta gente conviene a fare i tamponi? Leggevo di numeri importanti. Sì, purtroppo sì Massimo, noi siamo tornati ai valori dei tempi migliori, abbiamo circa un migliaio di persone che vengono a fare i tamponi, considera che noi abbiamo due presidi, uno qua e uno all'Izs e questo vale solo per la macchina, perché è il pomeriggio come adesso. Poi noi abbiamo i convocati, che sono coloro i quali vengono a fare il controllo dopo 7 giorni o dopo 10 giorni a seconda dello stato vaccinale. Anche loro sono circa 600-700 persone, quindi siamo quasi sui 2.000 tamponi al giorno. Più quelli che le USCA fanno a domicilio, più quelli che facciamo nelle periferie. Direi che abbondantemente per adesso superiamo i 2.000 tamponi al giorno. Senti, è una mia percezione, ti trovo più provato rispetto a quando eravamo in piena pandemia. Beh sai, sono passati due anni, sono due anni complicati, complicati per mille motivi, e adesso siamo di nuovo nella condizione in cui oggi registriamo, te lo dico in diretta, 1.754 nuovi positivi a Palermo. 1.754 nuovi positivi che secondo noi sono anche sottostimati rispetto al dato reale, perché non essendoci più la necessità del Green Pass, non essendoci le restrizioni, il numero di persone che denuncia la propria positività al Covid è diminuito moltissimo, noi stimiamo che uno su tre si denuncia, e quindi questo numero andrebbe probabilmente triplicato, ed è un dato preoccupante. Ieri sono stato a Catania, ho parlato col collega di Catania, e anche loro hanno un dato che li sta preoccupando moltissimo, soprattutto il fatto che hanno avuto il 54% dei positivi, loro per la prima volta, noi ce l'abbiamo già da un po' di tempo. E tutto questo ci fa pensare che siamo in un momento delicato, siamo in un momento in cui dobbiamo farci forza e essere pronti ad affrontare questa nuova situazione. Senti, tra un po' ti faccio dare un saluto. Senti Renato, come ci si cura con questa nuova variante? Cosa bisogna fare? Perché sento che attacca la gola, che crea problemi reumatici, che crea febbre per tanti giorni. Qual è la migliore terapia? Ma non sono tutte notizie brutte, ci sono anche le buone notizie. Noi rispetto allo scorso anno, pur avendo molti più casi, pur avendo una variante nuova, comunque abbiamo una serie di strumenti. Siamo una popolazione sufficientemente vaccinata, disponiamo di terapie, abbiamo gli antivirali da fare a domicilio, abbiamo gli anticorpi monoclonali. Conosciamo meglio il tipo di patologia che il Covid riesce a dare, l'impegno polmonare lo gestiamo molto meglio, tant'è vero che il numero dei pazienti che vanno in terapia intensiva è di gran lunga inferiore rispetto a prima. Quindi lo gestiamo meglio dal punto di vista medico. E' chiaro che non bisogna immaginare che questa sia poco più di un'influenza. Questa è purtroppo una vulgata che si sente dire troppo spesso, forse per esorcizzare il Covid. Non è ancora il momento, è ancora un po'. Dobbiamo resistere ancora un po', dobbiamo capire che le mascherine sono nostre amiche, non sono un fastidio, sono un presidio importante, che anche se non obbligatorio è consigliato nei luoghi affollati, nei luoghi chiusi, dove c'è la necessità di avere assempramente, che lavarsi le mani spesso è una buona abitudine che è indipendente dalla condizione, dalla situazione epidemiologica, è una cosa che bisogna mantenere, aereare i luoghi chiusi è una di quelle cose che dovrebbero ormai far parte della nostra vita, non è unico. Allora, senti, forse non lo sai ma te lo racconto io, intanto che dai altri ospiti di pazientare un po'. In caso a Minute quest'anno festeggia 17 edizioni, più tre che faceva la radio sono 20 anni, e come, no, consuetudine, alla prima puntata e all'ultima puntata ho sempre ospitato il Presidente della Regione, in questo caso è collegato con noi l'attuale Presidente, l'On. Enello Musumeci, al quale do un buon poveriggio. Presidente, buon poveriggio, benvenuto in diretta, grazie per essere con noi. Apriamo il microfono al Presidente, abbiamo un problema di connessione col Presidente, non so se lui mi sente. Eccomi qua! Eccoti, eccomi Presidente. Allora, riparti da capo. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a quanti sono in collegamento, un saluto al Commissario Costa, che continua a lavorare in trincea, e non soltanto lui, ma anche i suoi colleghi e tutto il personale sanitario. E' un appuntamento, Massimo, io non potevo mancare, tu mi hai invitato, e come sempre in questi anni, rispondo presto. Grazie, Presidente. Senti, intanto, allora, liberiamo il Dottore Costa, al quale auguriamo buon lavoro, soprattutto buona resistenza, perché stare sotto le tute con quelle temperature lì, caro Renato, io l'ho fatto per mezz'ora quando sono entrato al reparto Covid, ma era inverno, e ho faticato, figuriamoci con 40 gradi, quindi buon lavoro, in bocca al lupo. Presidente, vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, 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 vedo che il Commissario Costa, porta la maglietta rossa, aveva poco fa, ben visibile anche la stella, e quindi, ormai lo sappiamo, questo è un difetto antropologico, però gli vogliamo bene lo stesso, tu avrai notato come adesso si è abbassata la maglietta e ha coperto la stella, e bene, e io gli voglio bene, non solo perché è un uomo di sinistra, ma che lavora con grande impegno, soprattutto perché è coerente, perché ognuno deve essere orgoglioso delle proprie idee, e la nomina del Commissario Costa è la conferma, se ce ne fosse bisogno, che io non ho mai guardato alla appartenenza, ma alla competenza, se poi le due cose coincidono, è davvero il massimo, il Commissario Costa si è rivelato abbastanza pronto, efficace nel suo lavoro, è un momento difficile, perché abbiamo sempre detto che il Covid non è andato via, non è scomparso, convive con noi sotto forme diverse, che l'arrivo dell'autunno naturalmente deve farci stare pronti ad ogni qualità, come abbiamo fatto anche negli anni passati, senza farci prendere in contropiede, ed è il loro lavoro, loro sono sulla trincea, noi coordiniamo e organizziamo nelle retrovie, ma la responsabilità naturalmente è di tutti, anche di coloro che non si vedono, non si sentono, ma che ogni giorno danno il meglio delle proprie capacità per evitare che questo maledetto Covid possa rendere la nostra vita ancora più difficile. Grazie professore Costa, buon lavoro a te, a tutti i ragazzi. Renato, cosa vuoi dire? Che questa regione deve molto al Presidente Musumeci e che noi l'abbiamo affrontato nelle condizioni in cui l'abbiamo affrontato, perché il Presidente ha avuto una lungimiranza straordinaria per tutte le ordinanze con le quali ci ha sostenuto lo scorso anno, che è sempre stata una presenza continua e costante, quindi io al di là delle piagerie, proprio glielo dico affettuosamente e spontaneamente, grazie a nome mio, ma grazie a nome di tutti i siciliani che le dobbiamo veramente tanto, Presidente. Buon lavoro. Grazie Renato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora Presidente, ti tengo tre minuti contati, perché so che poi devi scappare verso Marsala. La prima cosa che ti voglio chiedere è questa. si parla di emergenza siccità. La Sicilia si deve preoccupare, sì o no? Rispetto alla condizione delle regioni del nord, non siamo nella stessa situazione. Abbiamo riunito, convocato un vertice la scorsa settimana con tutti i soggetti interessati al piano acqua. Rimane la criticità che abbiamo sempre conosciuto negli anni passati, ma obiettivamente non siamo in quelle condizioni, nelle condizioni della Lombardia, per fare un esempio, o del Veneto o del Piemonte. C'è un tasso di umidità costante nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo fatto una verifica anche della quantità di acque che conservano le nostre dighe. Ricordo che abbiamo finanziato centinaia di serbatoi di vasche aziendali perché purtroppo la nostra acqua piovana nel passato non è stata mai sufficientemente utilizzata, conservata e quindi utilizziamo solo l'11% dell'acqua che arriva dal cielo con le vasche aziendali anche di una certa quantità naturalmente l'agricoltore può intervenire in caso di soccorso di emergenza siccità nei periodi estivi. Abbiamo già impegnato 40 milioni di euro per finanziare oltre il 50% nella misura di oltre il 50% questi interventi nel frattempo abbiamo avviato la procedura per pulire togliere i fanghi dalle dighe cosa che non si faceva da 40-50 anni e più fango si accumula nella diga come puoi immaginare meno acqua la diga è nelle condizioni di poter assorbire. Abbiamo riqualificato e stiamo riqualificando alcune tratti della rete dei consorsi di bonifica abbiamo già concesso 17 milioni di euro con le risorse nazionali abbiamo presentato e ottenuto il finanziamento di altri progetti per 130 milioni di euro già stanno partendo i lavori per la nuova rete idrica della città di Agrigento e stesso intervento pensiamo di fare per le altre città dove purtroppo l'acqua si perde ed è tanta quella che si perde ma sono 20 anni 30 anni che nessuno si era occupato di questo intervento quindi le misure ci sono sono a breve a media e a lunga scadenza come deve fare un'amministrazione che abbia una capacità di visione senti intanto grazie allora come ti raccontavo prima come tu sai da 20 anni prima puntata ultima puntata è presente il presidente della regione e io non so da qui a quando ritorno in che vestiti troverò certamente ancora da presidente visto che si tornerà a votare in quel di novembre se la memoria non mi inganna io ti faccio tanto in bocca al lupo ti abbraccio forte ti ringrazio per aver accettato tutte le volte il mio invito quello delle relazioni di blog e di videoregione ti auguriamo buon lavoro da qui al termine del tuo mandato c'è una cosa a cui tieni veramente più di tutte prima di finire il tuo mandato che devi portare al termine presidente una su tutte vorrei poter completare la procedura per i due termoutilizzatori e liberare la mia terra dalla schiavitù delle discariche che qualche volta diventa anche contiguità con certi poteri è una scelta che ho fatto con grande coraggio assieme al mio governo realizzare due termovalorizzatori in Sicilia significa liberare l'isola dalle 511 discariche che ho trovato quando mi sono insediato basta la differenziata deve arrivare al 70% almeno e già è passata dal 19 a 47 in questi ultimi anni grazie anche alla collaborazione dei sindaci però non basta c'è una quota di spazzatura indifferenziabile che è destinata ad andare nelle discariche se non va nel termoutilizzatore dove diventa cenere e peraltro produce anche calore che in molte altre parti del mondo significa risorse significa ricchezza questo è il mio obiettivo la procedura è partita lo scorso anno speriamo di poterla mandare a buon punto alla scadenza del mio mandato che arriverà fra quattro mesi al di là di quello che poi succederà dopo questo è il primo obiettivo al quale guardo perché la politica dei rifiuti significa anche politica igienica significa anche politica sanitaria significa anche politica di decoro e quindi turismo e quindi accoglienza grazie grazie Nello come ti chiamo sempre io grazie a te bocca al lupo buon lavoro per la tua ospitalità per quello che sai fare per il cuore che ci metti per l'animo con cui svolgi il tuo lavoro e consentimi di ringraziare tutti i tuoi fedeli telespettatori che ti hanno seguito in questi anni e che hanno avuto anche la pazienza di ascoltare me ogni volta che ho avuto il piacere e l'onore come oggi di essere tuo ospite auguri a tutti ciao presidente dio ti benedica buon lavoro in bocca al lupo a te e a tutta la tua squadra di governo grazie a Nello Musumeci do subito il buon poveriggio a Dino Gianrusso ciao Dino buon poveriggio benvenuto in casa Minutella ciao grazie dell'invito buon pomeriggio a tutti voi grazie per essere con noi posso dire che sei ancora europarlamentare ah beh assolutamente puoi dirlo forte europarlamentare dei 5 stelle non più dei 5 stelle perché ho lasciato il movimento 5 stelle ma per me da un punto di vista concreto diciamo non cambia nulla in Europa perché il movimento 5 stelle è tuttora nei non iscritti il movimento 5 stelle amici miei dei 14 europarlamentari eletti nel 2019 ne sono rimasti 5 quindi quei pochi che sono rimasti sono nei non iscritti e io sono ero nei non iscritti e rimango nei non iscritti almeno per adesso quindi dal punto di vista concreto non cambia assolutamente assolutamente nulla buon poveriggio a Claudia Campese direttore di Meridio News ciao Claudia buon pomeriggio buon pomeriggio a voi grazie per essere con noi a Francesco Bianco a Dn Kronos ciao Francesco buon pomeriggio come stai Francesco tutto bene buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti a calda come alle vostre latitudini anche qua quasi quasi che stiamo qua in ghianno buon pomeriggio ad un amico e un collega di Telecolor a Luca Ciliberti ciao Luca buon pomeriggio ciao Massimo ciao a tutti allora ragazzi partiamo per carineria dalle donne per galanteria partiamo da Claudia Campese allora è stato presentato questa nuova idea che vede protagonista Cateno De Luca Dino Gianrusso Ismele Lavardera su tre due sono ex iene forse magari Cateno più in là oltre a fare il musicista diventerà un conduttore delle iere perché da Cateno De Luca ci possiamo aspettare qualunque cosa allora come sempre caro Dino io faccio il parcheggiatore le domande le fanno quelli bravi partiamo da Claudia Campese prego Claudia ma Massimo secondo me non so se quello che sto per chiedere te l'ha venuto in mente ma secondo me è venuto in mente un po' a tutti il movimento si chiama Sud chiama Nord e fin qui ci siamo la domanda ovvia dopo è ma il Nord risponde e se sì come secondo ovviamente Dino Gianrusso Dino se ce l'auguriamo ce l'auguriamo abbiamo già richieste di adesione da tutte le regioni italiane e questo a me sinceramente fa molto piacere però al di là della possibile crescita di questo movimento che chiaramente nasce in Sicilia la mia idea di movimento politico si è unita a perché Catena De Luca è stato il primo a chiamarmi a propormi di collaborare l'hai cercato tu ti ha cercato lui Dino no mi ha cercato lui mi ha cercato lui è stato davvero gentile tempestivo e ha delle idee che condivido ed è stato un ottimo amministratore di Messina io prima ho sentito il presidente Musumeci capisco per carità la cordialità ma ho sentito delle cose per cui le orecchie mi stavano un po' sanguinando perché tra quello che ha detto e la realtà c'è un grandissimo gap però dicevo Catena De Luca ha già una struttura che si chiama Sicilia Vera un partito locale importante che si chiama Sicilia Vera un movimento popolare che già esiste e quindi la mia idea si è in qualche modo unita al percorso preesistente di Catena De Luca per creare un movimento che è anche un partito nazionale e quindi il Nord ha già risposto poi naturalmente hanno risposto anche forze politiche preesistenti che sono in tutta Italia perché sono piuttosto interessate vedete le forze politiche normali quando c'è qualcuno che ha grande consenso quantomeno lo rispettano ci parlano lo chiamano eccetera purtroppo questo non avveniva più da tempo nel movimento ed è una delle tante ragioni che mi ha spinto a lasciare quello che ha il guscio del movimento ha il simbolo per pure cambiato il nome ma non ha niente a che fare con il movimento con i suoi valori con le sue origini per cui come dire sono uscito formalmente da qualcosa che non è più quella che avrebbe dovuto essere che è stata per alcuni anni Ciccio Bianco tocca a te vai Francesco volevo chiedere a Dino Gianrusse innanzitutto un ciao anche a lui il discorso paranazionale per così dire oltre alla fattispecie chiaramente siciliana con De Luca con te con la Vardera e quanti altri da un punto di vista nazionale dovresti da quello che ho capito che diceva De Luca nei giorni scorsi occupartene un po' più tu oltre all'endorsement che c'è stato anche in sede di conferenza stampa a Palermo da parte di Vittorio Sgarbi con tanto di collegamento avete già diciamo delle vicinanze nazionali c'è qualche nome importante come vi vedono per così dire anche i partiti nazionali hai avuto contezza hai potuto testare il termometro ecco vedere un po' come va te lo dico te lo dico molto serenamente questo progetto nasce e chiaramente immediatamente avrà una sua prima prova che sono le elezioni regionali di novembre dove andiamo in ticket De Luca precedente io vicepresidente dove ci sarà una lista che ha il simbolo De Luca sindaco di Sicilia sud chiama nord già russo si chiamerà così la lista abbiamo anche presentato il simbolo ieri e immediatamente abbiamo avuto come dire corteggiamenti da parte di forze politiche nazionali importanti nazionali importanti un po' perché qualcuno sperava forse spera ancora non lo so di portarci nel centro-destra o nel centro-sinistra un po' perché comunque facendo un risultato importante in Sicilia si mettono le basi è successo anche tante altre volte lo stesso Movimento 5 Stelle il suo primo risultato importante lo fece proprio le regionali del 2012 in Sicilia si mettono le basi per fare un discorso nazionale parliamoci chiaro quando il 50-60 volte per cento delle persone non va a votare significa che l'offerta dei partiti tradizionali è molto scadente o perlomeno non è amata dai cittadini italiani e quindi non è un caso secondo me che alcuni ecco leggo adesso il titolo ci tirano per la giacca non posso dire che ci tirino per la giacca però che ci corteggiano sì perché magari una gamba che rende più solido un tavolo farà comodo in proiezione nazionale e se noi facciamo come io sono sicuro un bel risultato in Sicilia magari questi corteggiamenti saranno più chiari però a noi non basta non serve il corteggiamento a noi serve di capire che cosa vogliono fare i partiti e le coalizioni a livello nazionale perché a livello regionale ci sembra che stiano facendo stiano dando un pessimo spettacolo e quindi siamo orgogliosamente indipendenti ricordo chiudo ricordandoti che a Messina io ho appoggiato il sindaco Federico Basile che era chiaramente come dire un erede designato di Cateno De Luca e è incredibile che oggi su Repubblica ci sia scritto Federico Basile con tanto della foto dell'amico Federico anzi che saluto ne approfitto per salutarlo c'è scritto centrodestra con la scritta azzurra no il candidato del centrodestra si chiamava Croce che era stato anche un assessore di centrosinistra perché in Sicilia centrodestra e centrosinistra hanno un confine estremamente labile era stato con Crocetta adesso era il candidato di Genovese del centrodestra ma anche Genovese era stato del centrosinistra quindi ci stiamo confondendo un po' però noi abbiamo battuto centrodestra e centrosinistra prendendo i voti che hanno fatto insieme centrodestra e centrosinistra cioè De Domenico e Croce ecco credo che sia un dato importante poi chiaramente a Messina De Luca ha una potenza tale per cui era difficile andargli contro però vincerà il primo turno col 46% dei voti quando quelli hanno preso il 23 il 25 mi sembra che sia un risultato e tra tanti Luca Ciliberti Luca prego aspetta che apriamo il microfono a Luca vediamo se riusciamo Luca ecco ti vai adesso ci sono adesso ci sono dico la domanda merita però un attimo di premessa perché se no dico non si capisce la premessa uno è che Dino Gianrusso è certamente intelligente e l'intelligenza spesso cammina a braccetto con la furbizia ha capito che in un certo momento della storia politica il Movimento 5 Stelle era come dire il partito su quale puntare con tutti con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi difetti con tutte le sue regole con tutti i suoi paletti che poi lui stesso diciamo si è trovato si è trovato ad affrontare e che è ribaltato ad altri che non hanno rispettato e questo è uno ha capito adesso che Cateno De Luca è certamente un cavallo di razza un cavallo vincente al di là di tutto quello che ne dicano gli altri Cateno è un bravo amministratore perché uno che è stato per tre volte sindaco non è certamente un parvenuto dalla politica conosce la macchina amministrativa cosa che molto spesso molti dei deputati che sono stati eletti in tutte le sedi istituzionali del Movimento 5 Stelle non erano in grado di fare Dino Gianrusse al Parlamento Europeo e là si è trovato a sua forza a confrontarsi insomma e a studiare così come fanno tanti parlamentari europei forse è l'unico l'unica sedi istituzionale dove quando si entra bisogna davvero studiare le carte allora detto questo detto questo mi piace anche il nome Nord chiama Sud è molto evocativo poi al di là diciamo la domanda è corretta di Claudia Campese dice risponderà questo Nord ma insomma non è che ci voglia molto rispondere risponderà certamente sì perché a conti fatti Cateno De Luca in questo momento il movimento di Cateno De Luca con Dino Gianrusso Lavardere eccetera quantifica centinaia di migliaia di voti se così come dicono i sondaggi il movimento di Cateno De Luca dovesse arrivare con Dino Gianrusso Lavardere tutti a quella 10 12 anche 15% puntando a un espluato significa avere centinaia di voti centinaia di migliaia di voti che equivalrebbero diciamo a quello che prende noi con l'Italia che è tutta la confederazione di grande centro che si presenta all'elezione e che va sempre col centro-destra quindi pensate se non risponderà il Nord in quel momento quindi Dino è un grandissimo politico intelligente diciamo con questo la domanda è però e qui lo faccio un po' diciamo lo solletico lo faccio anche un po' innervosire molti dei suoi ancora oggi quando lui scrive delle cose sui social lo massacrono ti devi dimettere sei un buffone sei un pagliaccio accusavi gli altri è accusato con Rao di non aver fatto la stessa cosa al Parlamento Europeo in tanti ti hanno rimandato quegli screenshot che dicevano dimettiti perché il Movimento 5 Stelle vuole questa regola perché non si è dimettito cioè non avrebbe rafforzato la sua forza la sua credibilità una premessa di tre quarti d'ora per cui devo un pochino replicare la tua premessa perché io ti ringrazio per avermi definito intelligente ma furbo sinceramente nell'accezione in cui l'hai detto tu no positiva 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 sì sai tanti vengono chiamati furbi truffatori tangentisti io sono una persona onesta quindi con i furbi con un certo tipo di furbi e furbetti no no ma nell'italiano parlato purtroppo caro Luca come sai questa è una cosa come molto sbagliata la parola furbo viene identificata spesso da un ladro uno che non paga le tasse uno che non rispetta le regole ecco io rispetto le regole pago le tasse sono una persona onesta e per bene partiamo da parla anche il corsievo ho avuto la prima no quello il corsivo no quello no per fortuna no ho avuto la prima proposta di candidarmi nel 1997 pensate avevo 23 anni appena compiuti Enzo Bianco si candidava per la seconda volta diciamo da quando c'era l'elezione diretta al sindaco di Catania avrebbe vinto sicuro sarei stato consigliere comunale sicuro ma pensate che rifiutai quella candidatura perché non mi sentivo all'altezza non mi interessava il gioco dei partiti eccetera da allora poi ho fatto cinema poi ho fatto le Iene ho avuto una certa popolarità mi hanno proposto di candidarmi di andare con loro quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale soprattutto di centro-sinistra e io ho sempre rifiutato io ho scelto di andare nel Movimento 5 Stelle perché lo ritenevo e l'ho ritenuto credo che lo sia stato per un periodo una forza rivoluzionaria antisistema e antipartito e oggi ho scelto di come dire percorrere questo cammino insieme a Cateno De Luca perché oggi è l'unica forza antisistema a Cateno De Luca caro Luca Ciliberti perché tanto è vero che chi è che ce l'ha con Cateno De Luca Lombardo Cuffaro Musumeci la sinistra il PD i 5 Stelle sono tutti terrorizzati da Cateno De Luca perché da me e Cateno De Luca insieme siamo hai detto bene insomma due che hanno un certo consenso io ho preso 120 mila voti alle europee pur avendo come tu ben sai tutto il Movimento 5 Stelle regionale contro cosa che era evitata dal regolamento ma che è stata fatta lo stesso perché la famiglia Cancelleri dava fastidio una persona libera perché gli altri deputati del Movimento 5 Stelle non sono liberi sono uomini di Cancelleri e anche questo tu lo sai benissimo avete degli addetti stampa che vi chiamano e vi dicono no però Gianrusso non gli fate l'intervista a Gianrusso non date peso a Gianrusso tutte queste cose le sapete se volete faccia nome e cognome peraltro ce n'è uno che lavora per il gruppo del Movimento 5 Stelle in regione si chiama Marco Benanti e allo stesso tempo prende lo stipendio dall'eurodeputato Corrao che scriveva dei post contro il Movimento 5 Stelle non so neanche se questa cosa sia vietata o meno dalle regole europee però è singolare lo stesso ha detto stampa Marco Benanti lavora contro Conte contro i 5 Stelle in Europa scusami e prende uno stipendio no 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 è un fatto eh Dino no 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 mi attengo ai fatti però vedi ha interrotto me perché dico una cosa che ti disturba anche a te allora fammi finire e poi non mi interrompere fammi finire Marco Benanti scusa fermati Dino perdonami fermati un attimo mi stai interrompendo hai paura di quello che dico no no assolutamente hai paura? Dino hai timore? no ti spaventa quello che dico allora la verità non devi avere timore della 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 verità tu puoi continuare però devi fare continuare se mi interrompi è sgradevole fermati un attimo io ti dico una cosa è molto sgradevole perché si rivela anche il tuo timore no 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 alcun timore ascolta Dino e allora perché mi ha interrotto a Musumeci non l'hai mai interrotto gli hai suonato il violino eh sì perché sono fammi finire a me perché sono Filo Musumeci Filo Musumeci esatto ah vabbè allora è bello che tu lo ammetta ma no perché se lo dici tu è corretto che tu lo ammetta no voglio dire per una cosa e rispetto a tutto quello che tu sì perfetto vabbè ok abbiamo un fatto ti ho interrotto posso finire? no se mi fai dire una cosa ti faccio finire tu puoi fare tutti i nomi che vuoi tanto come sempre me ne assumo tutte le responsabilità bravo stavo per dire proprio questo cioè abbiamo fatto la iena ma ci mancherebbe oh perfetto l'ho detto puoi dire puoi continuare allora grazie della specificazione mi assumo la responsabilità di ricordare non di dire perché non è un'affermazione di ricordare che c'è un signore che lavora per il gruppo comunicazione del MoVimento 5 Stelle in regione si chiama Marco Benanti lo conoscete molto bene perché vi chiama io non lo conosco non ho mai ricevuto una sua telefonata ah incredibile sei l'unico in Sicilia ma Luca Ciliberti sì allo stesso tempo questo stesso signore lavora per un deputato europeo che è uscito dal MoVimento 5 Stelle lo trovate perché è pubblica la cosa nel MoVimento 5 Stelle gli europei sanno l'obbligo di scrivere tutti i propri collaboratori che ha parlato malissimo per anni del MoVimento 5 Stelle adesso forse lo fanno rientrare con Di Battista e quindi forse ha cambiato di nuovo idea sul MoVimento 5 Stelle Ignazio Corrao allora a me che queste persone mi vengono a parlare di coerenza non è che mi fa ridere caro Luca mi fa piangere o vomitare io non sono uscito dal MoVimento 5 Stelle per questo non mi sento affatto incoerente perché io sono entrato in una forza politica dove era importante la cura dei territori e invece incredibilmente si sono abbandonati i territori dove c'era la democrazia diretta si potevano scegliere gli organigrammi invece Conte ha fatto uno statuto dove ci sono 5 vicepresidenti tutti nominati da lui 100 membri dei comitati tutti e 100 nominati da lui 22 referenti regionali tutti e 22 nominati da lui 100 referenti provinciali tutti e 100 nominati da lui sono 240 nomine tutte autocratiche decise dal capo questo non ha niente a che fare con la democrazia diretta non ha niente a che fare col MoVimento 5 Stelle come non ha niente a che fare stare nel governo Draghi col MoVimento 5 Stelle ma ci sono altre cose ancora più gravi essere ricattati da quelli che vogliono fare il terzo mandato come sta facendo Conte tu lo ritieni una cosa dignitosa nei confronti di una forza politica che aveva come come dire mantra non si fa politica di professione allora questo è un gruppo di persone che non può tacciarmi di incoerenza però non è un comizio sto dicendo dei fatti non è un comizio sto dando una risposta tu hai fatto una lunga premessa e ti faccio una lunga risposta però Conte ha fatto 99 non ti ha fatto 99 diciamo se ci fosse stato il tuo in quei 99 nomi che cosa sarebbe successo? era uguale no era uguale perché io non volevo essere nominato da Conte io volevo che lui facesse votare almeno una parte di questi nomi perché prima era così i facilitatori nazionali e i facilitatori regionali torniamo alle cose in casa nostra raga è una cosa importante ha cambiato ha cambiato pelle ai 5 Stelle caro Massimo se prendono meno voti ti faccio un ultimo esempio poi mi taccio a Palermo si è imposto un candidato al Movimento 5 Stelle senza consultare la base e peraltro per una volta eravamo d'accordo anche io e Cancelleri per una volta che volevamo entrambi Trizzino e invece senza consultare la base questo lo sai perché sei palermitano è stato imposto Micheli il risultato qual è? un pessimo risultato chiedo scusa perché eccomi ci siamo ci siamo ci siamo a Messina no no ci sono ancora a Messina con sette onorevoli e una sottosegretaria il Movimento 5 Stelle ha preso il 4% perché è stato imposto un candidato che nessuno conosceva che non aveva niente a che fare col Movimento 5 Stelle questi sono numeri sono dati quindi credo che l'incoerenza sia imporre dall'alto un candidato che non è manco nostro andiamo da Claudia prego Claudia Campes scusate la io vi prego di essere più veloci soprattutto nelle risposte Dino così abbiamo più tempo promesso 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 la domanda non sarà lunga però una cosa la volevo dire a Dino Giorrusso lì in effetti in questo scambio nell'accusa ai giornalisti di avere ricevuto telefonate peraltro appunto Massimo sinceramente me l'hanno detto alcune di loro eh ma non noi ma stai parlando con noi stai parlando con noi quindi non noi o almeno ognuno risponderà per sé io parlo per me però devo dire in questo diciamo riconosco un grillino della prima ora mettiamola così ecco quindi questa questa è una prova del 9 se vogliamo vi ricordo a Dino Giorrusso che l'ultima volta che è stato in trasmissione da me ha chiamato tutto il tempo Nuccio Di Paola Nuccio Coso nessuno l'ha censurato quindi e anzi ci siamo fatti una risata è stato anche divertente l'ho chiamato al di là di questo Nuccio Coso era un po' era Nuccio Coso non mi ricordo forse Cancellere ecco quindi ci siamo fatti una risata perché non è questo il punto eppure Nuccio Di Paola ci risponde ancora al telefono quindi evidentemente non è quello il problema ma ci mancherebbe fa bene io credo che sia proprio discussioni come quella che abbiamo fatto negli ultimi tot minuti che allontanano le persone perché le persone non gliene può fregare di meno credo di queste beghe diciamo chiamiamole così per le persone normali no? comuni quindi quello che vorrei capire io invece da Dino Giorrusso è questo nuovo movimento come si pone dal punto di vista dei temi perché stiamo affrontando intere campagne elettorali fatte all'ultimo momento come quella di Palermo e quella per le regionali non è proprio così più lunga dove si parla di tutto tranne che di temi che poi insomma dovrebbe essere quello che interessa le persone faccio degli esempi ma dal nazionale al locale ma vanno bene altri cioè reddito di cittadinanza sì o no gli inceneritori in Sicilia sì o no questo movimento che idee ha per questa regione concordo e concordo con quest'ultima parte soprattutto e a breve stileremo io lo vorrei chiamare decalogo ma forse saranno più di dieci i punti in cui in maniera molto stretta si danno come dire non soltanto degli argomenti generici cioè il lavoro è un problema gap nord-sud è un problema eccetera però poi se non proponi una ricetta per sistemarli insomma sono chiacchiere problemi concreta è quella di avere una fiscalità di vantaggio per il sud cosa che è possibile pensate che ci sono regioni europee la Sicilia purtroppo è una delle ultime regioni europee verso la fine della classifica per reddito e per condizioni di vita e invece molti imprenditori italiani hanno delocalizzato all'estero approfittando diciamo di agevolazioni fiscali ma perché non farlo nelle regioni disagiate dell'Italia con l'avallo dell'Europa non so se sono chiaro questo l'Europa lo ha permesso per i nuovi ingressi i paesi dell'estero e secondo noi dovrebbe permetterlo anche a regioni del sud Italia parliamo di rifiuti ho sentito Musumeci prima Musumeci dice che vuole fare gli inceneritori se ne accorge ora a 4 mesi dalla fine però vabbè meglio tardi che mai dopodiché deve sapere che se non hai almeno il 75% minimo di differenziata l'inceneritore o il termovalorizzatore è molto pericoloso quindi avrebbe dovuto in questi 5 anni lavorare in maniera intelligente supportare i sindaci per avere la differenziata cosa che non ha fatto assolutamente e poi pensare a fare eventualmente dei termovalorizzatori ecologici perché se la parte che va a bruciare è prima come si dire trattata chiaramente il termovalorizzatore ha un impatto molto basso quello che fanno in Scandinavia spesso si parla della Scandinavia ma non si dice che in Scandinavia si brucia solo una cosa che si può bruciare non si butta la spazzatura a bruciare ci sono se vuoi posso andare avanti però non so mi avete chiesto brevità nelle risposte ecco diciamo un'altra cosa è la sicurezza insomma l'aiuto alla forza dell'ordine io credo che ripeto verremo fuori con quello che forse non sarà un decalogo ma qualcosa di più però bisogna essere molto concreti nel proporre soluzioni non soltanto lamentarsi di quello che non va Ciccio Bianco Francesco vai punto di vista di comunicazione chiaramente De Luca e anche Gerrusso stanno toccando le corde stanno toccando la pancia nel senso dei siciliani insomma questo si nota e si percepisce ormai da da diversi mesi anche sin dai tempi del covid dalle proteste che faceva anche anche De Luca cosa invece temete laddove dovesse insomma vincere le regionali cosa temete del popolo siciliano cioè perché ultimamente sembra un po' disilluso almeno a queste latitudini a Catania sommersi dall'immondizia da una micro criminalità diffusa da un mal costume che alle ultime elezioni quasi il 50% non è andato a votare quindi soprattutto in primis bravissimo Massimo il discorso dell'attenzione è pazzesco anche se poi tocca un discorso nazionale abbiamo visto i ballottaggi in quanto a poca gente è andata a votare ecco ma cos'è che va scosso nel cittadino siciliano medio ciccio telegraficamente rispondo sia alla prima parte di Claudio Campese che a te allora quelle cose di cui Claudio dice non tutti hanno deciso di telefonarmi oggi in questo momento scusate quelle cose di cui Claudio diceva non frega niente a nessuno no per le persone che hanno partecipato con il movimento quelle cose di cui ho parlato magari con troppa fretta e foga e me ne scuso anche con Massimo sono importantissime invece il movimento aveva preso voti caro Massimo cara Claudia perché faceva partecipare le persone e io sto raccogliendo adesioni entusiaste perché sto rifacendo partecipare le persone nel momento in cui il movimento a guida cancelleri in Sicilia e Conte purtroppo in Italia ha eliminato la partecipazione il movimento ha smesso di prendere voti e ha smesso di essere credibile peraltro per cui sappi che non è vero che sono cose del tutto secondarie magari interessano una nicchia di persone ma quelle persone avevano fatto grande il movimento rispondo all'amico Ciccio Bianco non ho assolutamente alcun timore di quello che potrebbero chiedere i siciliani una volta che avremmo vinto queste elezioni io credo che hai detto bene c'è una disaffezione dovuta alla inadeguatezza della offerta politica tradizionale dei partiti tradizionali e a proposito anche del furbo che diceva Ciliberti all'inizio caro Luca per me era molto più comodo andare in un altro partito una persona che ha 120 mila voti se ne va o a destra o a sinistra si fente d'accordo si fa candidare da qualche parte e la risolve se avessi un problema di poltrone che non ho invece creare un nuovo movimento politico significa ridare speranza a chi non crede nella vecchia politica almeno io al momento credo che sia possibile fare questo nel movimento non era più possibile farlo e mi auguro che questa offerta abbia riporti la gente a votare ecco riporti la gente a votare senti prima di andare da Luca essendo iscritto al Movimento 5 Stelle in questi anni avrai decurtato parte del tuo no? dei soldi che come tutti i parlamentari europei come tutti hai un'idea di quanto come tutti i parlamentari europei di quanto hai messo da parte tu cioè quanti soldi hai tornato indietro tu? no allora tutti i parlamentari europei per un errore del fatto nel momento della candidatura hanno messo da parte come era obbligatorio 1300 euro al mese e poi hanno dovuto interrompere quindi accantonare o per meglio dire spendere questi soldi in altre iniziative perché per le regole del Parlamento europeo questo vale per tutti i parlamentari europei del 5 Stelle naturalmente non solo per me è vietato fare la restituzione diretta quindi io ho speso circa 2300 euro al mese in iniziative sul territorio in le campagne elettorali quando c'era Italia 5 Stelle ho messo 5000 euro una volta 10.000 euro perché per come è la regola dei parlamentari europei ma hanno questo vale per me per Castaldo per Abbeghiani per tutti Luca cioè non si può fare quella restituzione diretta in questo caso i soldi chi li mette per questo partito come perché non mi pare ci sia una campagna tesseramento per cui da qualche parte qualcuno no 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 c'è una campagna allora sta per partire perché al momento stiamo preparando la piattaforma sarà pronta a giorni una campagna tesseramento la tessera avrà un costo di 10 euro per tutti e tutti gli eletti avranno dovranno versare sull'indenità lorda stiamo valutando se è il 10 o il 15% come è normale che sia per far funzionare questa forza politica per evitare di avere poi quegli sponsor esterni alla calenda che ci hanno quegli sponsor che gli hanno dato cifre importanti vorremmo autofinanziarci ecco non avere padroni caro Massimo non avere in questo caso quindi insomma mi pare di capire che nella parte iniziale sia tu che Cateno sto mettendo la grana poi dopo e agli altri arriveranno speriamo che arrivino vuol dire che avremo eletto tante persone va bene Luca tocca a te beh su Gianrusso insomma ci mette i soldi suoi con l'idea europarlamentale certamente Cateno insomma ha più ampia disponibilità come sappiamo grazie insomma a tutta la sua rete di contatti che ha sul territorio e poi quello che l'ha fatto forte questo famoso Fenapi ma detto questo io vorrei chiedere a Gianrusso oggi voglio fare il cavolà ma in questo progetto di grande centro basta che mi fai rispondere poi no lo faccio in questo progetto di grande centro diciamo che poi è quello a cui tutti ambiscono lo spazio largo insomma in prospettiva politiche 2023 potrebbe esserci anche la remota possibilità che il movimento Sicilia Vera in qualche modo totalizzando un buon risultato alle regionali possa essere cercato anche da questi come si chiama insieme per il futuro di Di Maio e compagni di quelli che come lui se ne sono andati dal Movimento 5 Stelle a quel punto che succede? No allora per essere chiari ragazzi l'ho ridetto forse male lo dico meglio noi siamo stati contattati da tutti e la come dire l'avversione nei confronti di Cateno da parte di non so Totò Cuffaro Raffaele Lommardo è perché probabilmente non ha accettato di fare il candidato del centro-destra o di una parte politica comunque e tantomeno lo accetterei io premesso questo io non credo che il problema sia la corsa al grande centro ma ripeto semmai a livello nazionale puoi sposare un progetto credibile ho sentito alcuni dei fuoriusciti di Luigi Di Maio che stanno con Luigi Di Maio perché alcuni erano anche molto vicini in realtà quelli che sono andati con Di Maio e non tutti sono di Maiani sono molti scontenti della gestione Conte, Taverna Cancelleri, Crimi però non è che sono di Maiani in realtà per cui ci sono persone che magari se in futuro vorranno decidere di venirci vicino ne parleremo anche alle regionali perché non credo che farà una lista insieme per il futuro quindi su questo sarebbe interessante vedere chi di loro che qualcuno di loro volesse impegnarsi per carità siamo molto sono molto mi piacerebbe molto qualcuno che vale però naturalmente ma ce ne sono anche di vali quindi potrebbe esserci l'ipotesi di vedere questo simbolo già alle regionali questo di insieme per il futuro magari con una lista apparentata da voi a parte a parte che lo dovresti chiedere a loro perché io non c'entro niente però non credo che loro faranno delle liste semmai potrebbero mettere dei candidati in qualche lista penso però ripeto dovresti chiederlo a loro perché sai è una cosa neonata come del resto siamo neonati noi insomma sei uno a cui il coraggio di dire le cose non mancano e dimostrare in tanti anni con le iene ma ce l'hai avuto il coraggio di dire che Catano De Luca non sa cantare gliel'hai detto che non sa cantare gliel'ho detto giuro gliel'ho detto alla prima uscita insieme la prima uscita insieme perché lui che è completamente pazzo come sapete spero nel bene però lo è dobbiamo dirlo simpaticamente aveva detto che io ero gigero gigero bo non so perché si è inventato quindi io sono salito sul palco cantando la canzone e gli ho detto subito la prima cosa che ho detto ho detto Catano a cantare sono meglio io di te non ti offendere però tu sei più a fare politica sei più bravo tu a cantare no ultimo giro di domande Claudia partiamo da te poi a scendere bianco e ciliberti e poi passiamo ai soluti finali sarò telegrafica De Luca ha fatto una previsione ha detto vinceremo con il 41% che facciamo ce la teniamo questa previsione la vogliamo limare rivedere così me lo segno e poi dopo ne parleremo quando sarà è un bellissimo traguardo prima Luca Ciliberti diceva se prendono il 10 il 12% De Luca ha detto il 41% io diciamo scommetto che ci avviceremo più al 41% che al 10% e che andremo a vincere a governare finalmente liberare la regione siciliana sì però siccome faccio questa trasmissione da 20 anni e di cose del genere sentite tante caro Dino niente di personale ci rivediamo appena dopo le elezioni ci rivediamo è che no ma il problema è uno che voi quando arriverete lì voi e chi vi ha preceduto al netto di poi delle responsabilità dovrete fare i conti con i burocrati con la burocrazia con i dirigenti con i passacarte con le carpette stagnanti sulle scrivenie c'è una vasca la settima vasca a Palermo che dovrebbe contenere i rifiuti che non si fa per la burocrazia la RAP di Palermo potrebbe fare assunzioni e i soldi ce li ha cioè gode di buona salute non lo facciamo perché? perché c'è la burocrazia per cui io vi faccio tutti i complimenti tutti gli auguri di questo mondo però quando arrivate lì a Palazzo e lì sono cazzi con i burocrati perché voi ve ne andate passano i 5 anni andate e tornate ma loro restano lì inchiodati nelle loro poltrone andiamo da Francesco Bianco Ciccio tocca a te velocissimo io non voglio fare il bacchettone per l'avvento parlato e aspetta aspetta perché non vedo più Gianrusso mi date Gianrusso per favore e forse ce lo siamo persi e peccato perché volevamo sentirlo ancora regia mi dai feedback su Gianrusso intanto ma la domanda questa che faccio può valere anche per tutti voi anche perché Massimo per Luca per Claudio secondo voi ma anche secondo Gianrusso se si ricollega l'immagine di avere un presidente della regione lungi dall'essere bacchettoni che spesso e volentieri ha questo atteggiamento un po' folcloristico più di qualche parolaccia buttata qua e là da un punto di vista educativo ripeto senza essere bacchettoni che figura si fa a livello nazionale cioè tu puoi stare con un politico del quale non condividi nulla però magari da un punto di vista di bon ton ti vai a confrontare allora che ne pensate a giro allora io prima di rispondere ti chiedo alla regia che dobbiamo richiamare Dino ad un altro numero infatti mi sta scrivendo su Telegram e il bello della diretta questo per farvi capire anche all'ultima puntata figurati si andava liscio puoi girarmi invito su Telegram a quest'altro telefono ok 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 allora chiedo alla regia di venire un attimo qui nel mio studio così vi do il mio telefono e lo potete chiamare direttamente io invece chiedo a voi se questo movimento politico vi convince partiamo da Claudia partiamo da te per rispondere alla domanda anche di Francesco guarda ci penso dall'inizio dall'inizio quando abbiamo iniziato a parlare in realtà credo sia la domanda inespressa di tutti sono tutti un po' personaggi De Luca già il russo stesso lo è a suo modo Sgarbi voglio dire sembra davvero il movimento dei personaggi potrebbe essere un po' di imbarazzo istituzionale immagino tu intenda io credo sia semplicemente il specchio dei nostri tempi è una questione che secondo me ci portiamo dietro da un pezzo siamo tutti noi parlo per me almeno anagraficamente in qualche modo una china cominciata con Berlusconi dove si sceglieva chi raccontava a livello politico il leader veniva scelto raccontando la barzelletta più divertente quello è quindi dico al di là del giudizio politico proprio come modalità di comunicazione politica si vota chi sta simpatico e quindi chi ti coinvolge da quel punto di vista si gioca anche sulla popolarità si gioca anche sulla popolarità Luca ti convince tutto questo e poi ci salutiamo perché ho sforato tanto mi convince cosa che si sceglie sulla popolarità sì è vero è chiaro è chiaro è una parte in un mondo fatto di comunicazione è chiaro che anche la popolarità il messaggio la comunicazione l'incisività del messaggio anche come dire il modo colorito di porlo certo che è importante è chiaro poi ci vogliono anche i contenuti e la serietà istituzionale quello che rispetto per le istituzioni il movimento di De Luca mi convince sì mi convince perché ho detto al di là del nome che è molto evocativo io credo che questo sia un progetto basato e creato e fatto a tavolino su dei numeri che realmente potrebbero esserci quando io dicevo 10 12 15% si parla di voti di lista ovviamente e come sai i voti di lista significa poi mettere dentro se dovessero essere reali questi voti di lista significa mettere dentro deputati dentro l'ARS ristretta a 70 essere incisivi nelle dinamiche legislative essere incisivi anche nelle dinamiche politiche quindi il movimento di Catero De Luca di Gianrusso di Lavardera di Sgarbi di tutti questi qua mi convince e credo che l'obiettivo sia proprio intercettare quelli che sono rimasti delusi quelli che non sono andati a votare e che magari con un De Luca in campo con un Gianrusso in campo con un Lavardera in campo sono stimolati ad andare di nuovo a riportare il loro voto alle urne e se pescano in quel bacino scusami Massimo se pescano dico in quel bacino che è il bacino degli scontenti il bacino dell'astensionismo guarda che lì c'è un partito che è il più forte d'Italia che è il partito che prende come abbiamo visto il 50% dei voti quindi ha voglia prendere da là dentro allora è tornato Dino abbiamo sporato tantissimo stavi dicendo una cosa stavi dicendo una cosa giustissima mi volevo innanzitutto scusare perché prima mi ero infervorato e ti chiedo scusa ma ogni tanto mi capita però invece quando parlavi di burocrati hai perfettamente ragione è l'unica scusante che hanno in parte gli ultimi presidenti della regione che sono stati disastrosi crocette musumeshi però è anche vero che non l'hanno sconfitta quella burocrazia un po' perché spesso quella burocrazia è figlia di clientele di partiti da questo punto di vista sarà una durissima lotta hai perfettamente ragione però mi permetto di essere fiducioso almeno in parte perché nel comune di Messina e prima di Santa Teresa Riva e prima di Fiume di Nisi Cateno De Luca quella burocrazia è riuscita a renderla innocua e a fare molto bene sapete quanti finanziamenti ha fatto arrivare a Messina non so se lo sai è la città che ha preso più fondi da quando c'è lui quindi mi auguro che questa efficienza riusciamo a portarla alla regione Sicilia sarà la nostra scommessa mia e di De Luca bene allora intanto grazie a Claudia Campese direttore di Meridio News buon lavoro Claudia grazie per tutte le volte che hai sentato il nostro invito vista questa è l'ultima puntata di questa stagione grazie a tutti e saluti a Peppe Russo a tutto il gruppo anche di Radio Fantastica assolutamente ricambiamo tutti a Luca Ciliberti che conduce il suo programma su Telecolor io lo seguo e faccio tanti in bocca al lupo e tanti complimenti e buona stagione grazie 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 a Luca grazie a Luca si posso aggiungere una cosa per finire il ragionamento guarda che il sindaco di Messina tra l'altro che lui ama definirsi anzi che De Luca l'ha definito politecnico era il segretario generale del comune quindi lui ha messo un burocrata a fare il sindaco capisci qual è l'intelligenza di questo molto bravo di questa trasmissione sciccio a Dio ti benedica non mi dici mai di no anche a te nonostante i tuoi tanti impegni da giornalista da conduttore radiofonico portami i saluti a tutto il gruppo di futuro al grande Gino e al mitico Gino Astorino al quale voglio un bene dell'anima perché è stato sempre musa ispiratrice grazie 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 ascolti quindi spero che il fondo ti faccia piacere e spero che ci rivedremo quando riapri ti faccio un bocca al lupo tantissimi auguri per la ripartenza dopo l'estate della trasmissione e mi auguro che poi visto che abbiamo parlato un po' di promesse quando De Luca e io governeremo la Sicilia poi ci farai le pulci per vedere se le abbiamo mantenute o meno bene vedo sotto in bassa frequenza Ciliberti bianco e campese ridere questo significa che ti aspettano al barco eccoli là te li ho fatti vedere te li ho fatti vedere qua siamo qua siamo senti grazie di tutto buon lavoro in bocca al lupo anche a te